Hanno un nome i responsabili del raid pasquale che ha devastato la scuola materna Bernabei di Camucea di Cortona. Si tratta di minorenni, in alcuni casi addirittura sotto i 14 anni. Sono scattate le denunce da parte dei carabinieri di Cortona. Da una prima ricostruzione si era potuto accertare che alcuni vicini dello stabile, verso le ore 19 del 2 aprile, avevano visto provenire dalla scuola una gran nuvola di fumo che poi si è accertato fuoriuscire dagli estintori. Erano state chiamate subito le forze dell'ordine. I militari, ascoltate le prime testimonianze, hanno appurato che da poco si erano allontanati dei ragazzi, probabilmente minorenni. I successivi accertamenti, realizzati attraverso indagini tecniche, l'ascolto di testimonianze con l'ausilio delle riprese delle telecamere situate nei pressi della struttura, hanno portato all'identificazione di una parte del branco ritenuto responsabile del danneggiamento e in particolare quattro ragazzi. Tre di questi hanno addirittura meno di 14 anni. I denunciati sono infatti classe 2006, 2007 e 1998, tre di nazionalità tunisina e uno albanese. Per tre di loro, trattandosi di minori non imputabili, i carabinieri sono in attesa della decisione del Tribunale dei minorenni di Firenze. Il gruppetto di vandali sarebbe composto anche da altri ragazzini. I militari sono al lavoro per risalire a tutti i responsabili.